oh mamma mamma mia come godo 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 come godo, 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 come godo una partita di merda mamma mia, mamma mia, mamma mia io non avevo nulla, nulla contro la Fiorentina, nulla, nulla, la Fiorentina è stata la squadra più irritante, più irritante che ho affrontato quest'anno, sono stato meno irritato nella live reaction contro la Lazio, io ve lo giuro che contro la Fiorentina pareva di giocare contro Murigno, io ho avuto Murigno due anni e mezzo e che non lo so, io lo dicevo, ero il primo che diceva la Roma, lo so come gioca e se butta per terra e se la me... 94, minuti di butte a gente che si frullava per terra, perdite tempo, lamentele, mi hanno abbuffato le palle perché volevano il doppio giallo di Mancini quando l'arbitro dopo letteralmente un minuto da un giallo a Mancini con il giocatore che si frulla, che si butta, lo guarda, gli si lancia addosso e vola, giallo dopo un minuto, Paredes primo fallo a centrocampo, giallo, così perché Buonaventura decide di buttarsi, Entrausen fa un fallo a centrocampo con il giocatore di spalle giallo, c'è una cosa veramente... il rigore, il calcio di rigore, il calcio di rigore, il rigore, il rigore, voi ditemi letteralmente questo, regà letteralmente, letteralmente Belotti si gira questo, letteralmente, oh recuperatevelo, letteralmente questo, rigore, inventato, inventato, c'è un dio del calcio, oggi si chiama Svilar, oggi si chiama Svilar, si getta dalla parte giusta perché Svilar voi non lo sapete, voi, voi persone umane come me non lo sapete ma Svilar ha già visto il futuro e lo sapeva, si butta lì, lo neutralizza, lo neutralizza e la riprendiamo al 95, io veramente mi sento male nel recupero, perdete tempo, perdetelo ancora tempo, perdetelo ancora tempo, nel recupero abbiamo iniziato a giocare al 91esimo e mezzo, con 4 di recupero al 91esimo e mezzo, abbiamo iniziato a giocare, rimessa laterale, i raccatta palle che non davano la palla, noi la prendevamo, Cristante usciva, un'altro 10 minuti per batte, mamma mia che così è ancora più bello, se mi avessero detto, se mi avessero detto, la pareggi 2 a 2, poi piano, oh così, così, che bello, che soddisfazione, bene, detto questo, detto questo, non è che abbiamo fatto niente, non è che è successo niente, non è che, però, però, un punto d'oro, un punto d'oro, perché oggi, mi dispiace, mi dispiace, ma oggi, l'aveva persa, poi l'abbiamo ripresa, ma l'aveva persa Daniele De Rossi, che non era Alex Ferguson ieri, non è l'ultimo anno di Di Francesco oggi, semplicemente è un allenatore che sta facendo esperienza, le cazzate le fa pure lui, oggi per me ha fatto una cazzata, perché se tu te presenti a Firenze, dietro a 3, con la Fiorentina, basta un minimo di studio, io sono certo che De Rossi studia, io sono certo che De Rossi studia, ti basta un minimo di studio per capire che diamine non ti puoi presentare a 3 a Firenze, ma poi c'ho una domanda, allora, premessa, premessa, non ti puoi presentare a 3 a Firenze, perché loro giocano tutto sulle fasce, io sto morendo di caldo, loro giocano tutto sulle fasce, allora la mia domanda è, perché diamine sei giocato sulle fasce, tu giochi con i 3, con i 3 dietro, con gli esterni alti, che ogni volta ci facevano ballare la samba, tu questa partita la vincevi, in ciabatte, in ciabatte, se tu oggi avessi giocato con la difesa a 4, con 4, 2, 3, 1, con 4, 3, 3, chiamatelo come prepara a voi, quello che De Rossi ha sempre fatto, oggi tu la partita fino al primo tempo eri 0-2, tu la vincevi 4 a 1, pure questa, pure oggi ce ne facevi 4, pure oggi ce ne facevi 4, invece non so perché, hai deciso di complicarti la vita, lasciando fuori i pellegrini, facendo giocare a guarda mezzala, partendo a 3, con Angeligno a destra, oh, ma poi, eppure i cambi, con i cambi per me ha peggiorato pure, cioè sembrava veramente che stesse prendendo i cosi a pescata, a tombolona, 27 entra per 27, 18 entra per 18, ma che è? Oggi veramente male, oggi veramente male, Angeligno sulla destra, che da quando è passato sulla sinistra è ritornato Roberto Carlos, sulla destra non ne prendeva una, non ne prendeva una, lo superavano come se fosse un birillo lì situato completamente a caso, faceva i cross, faceva i cross ragazzi verso road to raccordo anulare di Roma, bah, 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 non l'ho capita, isolati, isolati per tutto il tempo, per tutto il tempo, tu hai giocato, tu hai giocato pochissime volte con la difesa a 3, primo tempo di Torino, t'hanno spaccato il culo, primo tempo di oggi, t'hanno spaccato il culo, parte, vabbè, ti ha fatto tutti, ti rimportano tutta la partita come noi, d'altronde, cioè non è che, però t'hanno spaccato sempre il culo, ok, perché giochi con la difesa a 3, perché, per dimostrare che sei un allenatore duttile, non aveva senso raga, non aveva senso, ma anche perché non ce li abbiamo, non ce li abbiamo, non ce li abbiamo, poi oggi Belotti, raga, Belotti io non lo so, ha fatto uno stop e il boss del freestyle ha fatto uno stop, si aggirava, volava via, e agganci, situazioni, l'assist del 2 a 1 mamma mia l'assist del 2 a 1, ma chi ce l'ha mannato, Belotti, che da noi, vaffanculo l'anno scorso ragazzi, da noi Belotti ha fatto 0 gol in 38 partite di campionato, 0 gol io penso che se ci vado io a giocare e faccio schifo che non mi reggo in piedi, poi la palla la butto dentro, io ho una botta di culo, di ginocchio, di spalla, di faccia, qualcuno che me la tira addosso, 0 gol, 0 gol, non capisco, loro la Roma di Murigno, loro la Roma di Murigno, sempre per terra, sempre a protestare, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, e per fortuna che a fine primo tempo, Paredes salva su Belotti, perché se no, ce l'eravamo bella che giocata, diciamo una cosa, andiamo sotto 1 a 0, ho rosicato più del previsto, perché mi andava bene prendere gol da tutti, ve lo giuro, mi andava bene anche che Amazon entrava in campo e per sbaglio se la infilavano solo all'incrocio del tacco, mi andava bene, ma da Ranieri, no, mi andava bene da tutti, da tutti, da Vincenzo Italiano che si scaldava e entrava e ci segnava di testa al 94esimo, ma da Ranieri, no, e indica, indica che guardava le stelle, poi ha fatto una gran partita dopo di quello, indica, dopo di quello l'unico che ha difeso praticamente, però in quell'occasione lì, mamma mia, pareva veramente che gli avesse allungato il cinquantino di euro per lasciarlo segnare, indica che se lo guarda, che gli dice, di che, perché, perché, sottile, ragazzi, sottile pareva garrincia, sottile pareva garrincia, io seguo qualche tifoso della Fiorentina, lo seguo, tutti odiano sottile, tutti non lo possono più vedere, cioè preferiscono i conè e i conè, ragazzi, pare me al quarto gin tonic, garrincia sottile, sottile, ragazzi, i doppi passi, le finte, volava via le, i tunnel, i cross precisi, oh, oh, ma che stai passando, ma che stai passando, ma che stai passando, godo, perché sul gol di Awar, sul gol di Awar la deviazione decisiva è di Ranieri, godo, godo, che poi Awar fa un gran bel gol su pallone di Angelinio, oh, ma guarda tu, hai risposto di Angelinio a sinistra, azzecca i cross, Awar ha fatto un bel gol, l'unica cosa buona che ha fatto Awar è in 90 minuti, più recupero, Awar, ragazzi, nuova serie, non sapevo di essere in campo, non sapevo di essere un calciatore, Awar, ragazzi, non ne ha presa una, oggi Awar imbarazzante, no prova in colore, prova proprio che non c'era, il gol, basta, 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 non ne ha presa una, manco per errore, ma adesso sono usciti tutti, lui rimane in campo, comunque non la prende, Angelinio a sinistra 2.000 cross giusti, Angelinio a destra sembra un rincoglionito, perché, perché, è chiaro, a fine primo tempo io ho detto, sta partita si può vincere abbastanza semplicemente, qual è il trucco, qual è il barbatrucco, passi a 4, tra l'altro avevi già tolto Mancini per mettere Ausen che ha preso il giallo esattamente come Mancini dopo due minuti, ma se ne avessi tolto Mancini gli avrebbero dato il rosso, tanto oggi scorreggiava uno e coso e l'arbitro giallo, 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 ma poi gialli inutili, primo fallo a centrocampo, primo fallo di un giudatore a centrocampo, primo fallo tranquillo da dietro, proprio per far sentire la presenza Gianluca dai cazzo, giallo, perché, 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 comunque a fine primo tempo era molto semplice, toglievi Llorente e poi vabbè, ha segnato alla fine, vabbè dico Llorente, potrei dire Indica, potrei dire Ausen, spostavi Angeligno a sinistra, mettevi Selic a destra, passavi a 4, Paredes, Cristante, toglievi Aguar, mettevi Pellegrini, El Sharawi, Dybala, Lukaku, semplicissimo, no, no, a fine primo tempo non fai i cambi, perché, perché a fine primo tempo non fai i cambi, perché, poi sul gol di Mandragora loro hanno il culo in faccia, perché loro hanno veramente il culo in faccia, e due nostri, Belotti crossa, la palla rimane lì, Mandragora la mette giù che manco fosse Oliver Hatton, due scivolano così, ma proprio, tipo all'idromania qui, qui sull'Aurelia, scivolano così, quello calcia, Svilarch e Poraccio non può nulla, Mandragora, 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 poi i cambi, poi i cambi, spiegatemi, spiegatemi, escono Dybali del Sharawi, entrano Baldanzi e Zaleschi, ma te sei sbagliato, mai hai detto tu numeri sbagliati, ma non per Baldanzi che a me piace tantissimo, e manco per Zaleschi che non è che è sempre la volta buona ad insultarlo, però perdonami no, togli Dybali del Sharawi? Cioè, Pellegrini, poi l'hai messo, eh, a 10, ma Pellegrini, ma Pellegrini, ma che aspetti? Ma fai turnover per che cosa? Che hai vinto 4 a 0 col Brighton, per cosa fai turnover? E poi il gol di Llorente, ragazzi, il gol di Llorente, ragazzi, il gol di Llorente, io voglio piangere dalla felicità, il gol di Llorente, mi so sentito male, il gol di Llorente, ma che state a di, ha fatto un gol da centravanti, ha fatto un gol da centravanti Llorente, Llorente, ne la faccio più, ne la faccio più.